La polizia e i carabinieri di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di costruire a camera di cancere emessa dal GEP di Napoli per detenzione porta di alba, radestina e munizioni aggravati da finalità mafiose si è Giuseppe Catuonio e il giornalista si tratta di Alessio Sepe, ventenne del quartiere di Miano e Luca Gallotti, 25 anni, di Chiaiano sono due dei tre ragazzi che dopo essere stati bloccati in via Lianfolla da una pattuglia del commissarato di polizia di Scampia si erano dati alla fuga a piedi Sepe fu bloccato immediatamente dopo dai poliziotti mentre due pattuglie in abiti civili della compagnia carabinieri Vomero si erano messi all'interno del gruppo organizzato oltre ad una serie di falsi testimoni ci sarebbe stato anche uno scambio di informazioni riservate in cambio di denaro o di farmaci calo trasporti ha un provvedimento si teme un'estate difficile in campagna sotto il profilo idrico le poche piogge potrebbero determinare carenze di acqua in molte zone ieri nel Cilento i canzieri che iniziano ad affollare le località balneari del Cilento vi faccio amici dei video dei nostri visioni per la giornata di venerdì 23 novembre 2018 ok stacchiamo